numero 5 amazfit t-rex pro è un orologio da nuoto che offre una ricca gamma di caratteristiche a un prezzo molto competitivo si tratta di un dispositivo versatile adatto per vari stili di nuoto e attività acquatiche dotato dello standard 10 atmosfere che consente al consumatore di nuotare in sicurezza questo orologio è in grado di fornire dati e metriche importanti come frequenza cardiaca frequenza di bracciata distanza e voltata inoltre include un'utile funzione denominata swulf che misura l'efficienza di nuoto in base alla lunghezza delle corsie impostate trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 4 il garmin swim 2 è uno smartwatch di alto livello estremamente compatto e leggero che offre strumenti di misurazione comprehensive in modalità per un monitoraggio a 360 gradi delle sessioni di nuoto è uno dei migliori del suo genere presenti sul mercato ipotecando un eccellente rapporto qualità prezzo le numerose funzioni incluse sono ben adatte al monitoraggio delle prestazioni in vasca o di acque libere lo smartwatch registra il numero di vasche la distanza il passo il numero e la frequenza delle bracciate e il numero delle calorie bruciate il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 3 su un tono 9 baro è l'orologio con contavasche definitivo offre un design robusto e una formidabile batteria per la massima durata di utilizzo grazie a parametri come tempo per vasca frequenza numero e tipo di bracciate e swulf lo smartwatch è in grado di monitorare allenamenti sia in acque libere che in piscina generando intervalli in base al ritmo scelto l'orologio è dotato di certificazione 10 atmosfere rendendolo resistente a 100 metri di profondità per cui è perfetto per nuotare in mare o al lago anche se non si consiglia l'utilizzo nelle immersioni senza dubbio è l'orologio con contavasche di riferimento grazie alle sue prestazioni eccezionali in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto numero 2 polar vantage v2 è stato progettato progettato appositamente per gli sportivi di tutti i livelli il dispositivo offre un'alta qualità tecnologica unita alla resistenza all'acqua fino a 10 metri e ai profili di allenamento multisport con particolare attenzione al nuoto in acque libere e piscina grazie al medesimo sensore gps è in grado di monitorare la frequenza cardiaca in automatico e fornisce un'analisi precisa della sessione di allenamento con dati personalizzati per rendere ogni allenamento soddisfacente il prodotto fornisce anche ai nuotatori l'opportunità di tenere traccia dei loro progressi con dati precisi e ritmi di nuoto distanze tempi di riposo punteggio swulf e molto altro ancora puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 1 garmin fenix 6 solar è l'ideale per i nuotatori che desiderano portare un dispositivo professionale ed efficiente per tracciare le loro sessioni di nuoto in piscina questo we arable di fascia alta offre numerosi profili attività tra cui quelli specifici per il nuoto con il quale è possibile monitorare variabili come la lunghezza della piscina gli intervalli le bracciate il punteggio swulf e quello css anche la presenza di una misurazione della frequenza cardiaca basata sul polso è d'obbligo per un atleta professionista insieme a strumenti come quello di identificazione automatica del tipo di stile e della schermata di recupero gestibili dall'utente trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video